Sono rimasto molto adorato dalla strage avvenuta domenica scorsa in Nigeria all'intento di una Chiesa dove sono state uccise persone innocenti. E purtroppo stamattina è giunta notizia di violenze omicide nella Repubblica Centrafricana contro le comunità cristiane. Auspico che cessi ogni forma di odio e di violenza e non si ripetano più crimini corsi vergognosi perpetrati nei luoghi di culto dove i fedeli si radunano per pregare. Pensiamo ai nostri fratelli e sorelle della Nigeria e della Repubblica Centrafricana preghiamo per loro tutti insieme.